Ciao a tutti ragazzi, io vi parlo il vostro panno, siamo qui nel canale di FIFA Ultimate Team Italia e siamo oggi qui per parlarvi di questo giocatore, Kim Jong-Yong Tots è lui il silver che mi somiglia un pochino di più a Zlatan Ibrahimovic perché hanno delle caratteristiche veramente similari allora hanno un controllo di palla che in game si traduce, allora in carta si traduce 74 per Kim Jong-Yong e 90 per Zlatan però Kim Jong-Yong vi posso assicurare che nella realtà ha molto, nel senso in game ha molto più controllo di palla bello posso assicurare, dribbling non si può nemmeno paragonare perché Ibra vince nettamente il tiro a giro purtroppo è un contro di Kim Jong-Yong che ha questo contro, questo handicap mentale che non sa tirare a giro poi Kim Jong-Yong è molto meglio rispetto a Ibra nel colpo di testa perché pur essendo alto più o meno come lui un metro e 96, avendo un colpo di testa assicurato di 88 non ha nemmeno bisogno di alzarsi, di fare un salto infatti la sua elevazione è di 60 poi i passaggi mi sono sembrati molto di più in game perché lui fingeva da C.O.C. avendo dei worklits abbastanza sballati cioè medio medio e quindi questo è anche un altro contro i passaggi invece mi sono piaciuti e tendo anche a metterli come pro i rigori sono veramente simili, 87 per Kim Jong-Yong e 91 per Zlatan e sono tutti e due delle bestie poi i tiro di potenza per Kim Jong-Yong 89 per Zlatan 93 e adesso andiamo nelle caratteristiche fisiche dove mi assomiglia un po' di più allora Kim Jong-Yong ha un'accelerazione di 81 che in game si traduce in 75, 76, non di più ragazzi perché essendo poco agile, 60 di agilità, fa sì che un'accelerazione, io non ho notato quella accelerazione sarà per colpa dell'agilità? Probabilmente sì invece al contrario Ibra perché ha 72 di accelerazione e avendo quella agilità là con lui 5 star skill se la riesce a cavare molto molto bene poi l'equilibrio in tutti e due fanno schifo 55 per Kim e 41 per Zlatan elevazione è molto meglio Zlatan però Kim Jong-Yong Kim Shing-Wook madonna non sapevo il nome ragazzi mi dispiace questo bestione qui ha un'elevazione di 60 perché ormai è alto 1, 96 cioè non ne ha molto bisogno questo giocatore poi hanno una reazione simile Kim Jong-Yong 78, Ibra 80 la velocità sprint dalla velocità 79 Kim Jong-Yong, Kim Shing-Wook scusate è il 78 Ibra e la stamina vabbè soltanto perché è toz quindi gli è andato 99 però la strength è veramente molto molto simile cioè 99 per Kim e 93 per Zlatan quindi poi dopo nelle caratteristiche mentali vince alla stragrande Zlatan Ibraimovic se questa review vi è piaciuta vi invito a iscrivervi a questo canale e passare magari dal mio e alla prossima dal vostro caro Pandus botto parziale per questo giocatore i Don Bellotto provatelo non costa nemmeno 100k quindi cheap but beast alla prossima